... Liberi TV, Reggio Calabria, secondo Pride Calabrese, siamo in compagnia di una drag. Cosa significa essere drag qui in Calabria e soprattutto al Pride di Reggio Calabria? Allora, dunque, per me essere drag è un modo di esprimere la mia personalità e tutto quello che normalmente non riusciamo a fare. Per noi questo è la nostra arte, insomma, cerchiamo di regalare delle emozioni al pubblico che ci segue costantemente, ecco, diciamo. Tu ti esibisci qui in Calabria? Sì, io mi esibisco sia in Calabria, in Sicilia, un po' in tutta Italia. Io mi chiamo Labiciu, sono anche una vocalist, faccio anche cabaret, insomma. Sei un artista a tutto campo, diremmo una showgirl, showman, show drag? Drag queen, sì. Drag queen. Drag queen. Perfetto, io ti ringrazio del tuo contributo, ti auguro buon Pride. Cosa ci dobbiamo aspettare da questo Pride che ancora non è terminato? Beh, noi ci aspettiamo sempre che finisca tutto questo odio che c'è nei confronti delle persone omosessuali e non, perché noi chiediamo solamente i nostri diritti e per cui speriamo che tutto vada per il meglio e che non sentiremo più altre storie di odio in giro. E soprattutto combattere l'odio con l'amore. Sì, soprattutto. Non fate la guerra, fate l'amore, ragazzi. Ve lo dice Bijou. Bijou, vuoi fare un saluto a Liberi TV? Ciao ragazzi di Liberi TV, grazie mille. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Grazie a tutti